Salve a tutti e benvenuti in questo secondo video dedicato al nostro sistema Trilion. Io sono Davide Renzetti e faccio parte del team di ingegneri che ha sviluppato questo dispositivo. In questo video parleremo soprattutto degli aspetti che riguardano la batteria, la tecnologia a litio. Nel prossimo video invece parleremo del nostro sistema Trilion che si affianca alla batteria Trilion. Bene, parliamo di litio, di tecnologia, di questo fantastico elemento che ci regala delle batterie così performanti. C'è però da dire una cosa, non tutte le batterie sono uguali. Ogni batteria diciamo ha la sua miscela, la sua composizione chimica in base alle caratteristiche che si vogliono ovviamente premiare. Ad esempio c'è chi preferisce privilegiare una forte corrente di scarica, come ad esempio in un trapano, a discapito magari della carica veloce. Ogni batteria è differente l'una dall'altra, ognuno ha la sua propria chimica. Noi abbiamo scelto il litio ferrofosfato, una composizione che ci permette di avere un'elevata sicurezza e delle performance davvero davvero interessanti. Iniziamo ad elencare innanzitutto il peso. Una 100 A, tipo ad esempio questa, con la tecnologia al piombo pesa all'incirca 30 kg, con la tecnologia al litio ne pesa circa 13 kg, il 60% in meno. Altra caratteristica interessante è la durata. Una batteria al litio ci garantisce almeno 2.500 cicli con una profondità di scarica dell'80%. Non solo, io vi ho detto 2.500 cicli è l'80% di profondità di scarica, ma se noi la batteria la scarichiamo in maniera più leggera, diciamo così, cioè non scarichiamo per forza l'80%, bene la batteria durerà di certo molto più a lungo, oltre i 5.000 cicli. Inoltre non soffre della profondità di scarica che siamo abituati ad avere con le classiche batterie al piombo. Vi faccio un esempio, appunto una batteria AGM al piombo. Dobbiamo preoccuparci di non scaricarla eccessivamente, perché altrimenti ne riduciamo la vita. Questo è purtroppo fisiologico in tutte le batterie al piombo, in tutte le batterie AGM, gel o acido libero. Ok, questo problema non c'è assolutamente nella batteria al litio, cioè possiamo scaricarla fino allo 0%, la batteria non perde alcuna performance. Altra caratteristica interessante è la bassissima toscarica, direi quasi inesistente. Con le batterie al piombo, infatti, dobbiamo per forza ricaricarle almeno una volta al mese, una volta ogni 20 giorni, quando mettiamo in rimessaggio il nostro mezzo. Con la batteria a litio non abbiamo questi problemi. Possiamo infatti tranquillamente ricaricarla almeno una volta ogni due, tre mesi. Ovviamente è sempre buona norma lasciare la batteria completamente carica. Prima vi ho accennato alla sicurezza. Sì, è vero, la batteria litio-ferrofosfato è intrinsecamente sicura, cioè già la chimica, la tecnologia ci garantisce un elevato standard di sicurezza. Ma nella nostra T-Line System c'è inoltre una scheda elettronica proprio al suo interno, ovvero un BMS che ha molteplici funzioni. Innanzitutto quello di rendere la batteria più sicura, ma anche la funzione di rendere la batteria più durevole tramite il sistema di bilanciamento delle celle. Come agisce il BMS? Cosa fa? Monitora costantemente tutte le celle della batteria e fa sì che, qualora ci sia ad esempio un cortocircuito, esso intervenga e blocchi istantaneamente questa elevata corrente. Non solo, esso blocca anche la scarica, cioè ovvero se la batteria viene scaricata troppo, scende sotto a un livello di soglia di 10,5V, il BMS interviene e ne blocca appunto la scarica. Il nostro BMS però ha anche quella sensibilità di poter discernere da una corrente di cortocircuito che deve bloccare, da una corrente improvvisa di spunto che serve per alimentare ad esempio un condizionatore. Altre caratteristiche interessanti sono la capacità di sopportare delle alte correnti di scarica e di poter essere scaricata fino al 100% della sua capacità, cosa diciamo non consigliabile con una batteria al piombo. Infatti quando abbiamo dei carichi molto molto elevati come ad esempio una macchinetta del caffè che può assorbire anche 100-120A per circa un minuto, oppure invece un condizionatore che può assorbire anche 60-70A in maniera continuativa, la batteria al piombo fa fatica a tenere il passo, o meglio riesce a darci queste elevate correnti ma per pochissimo tempo. Invece la batteria al litio riesce a garantirci queste correnti così elevate in maniera continuativa perché la batteria al piombo degrada le sue prestazioni con correnti molto elevati. In questo caso infatti sarebbe durata poco meno di mezz'ora. Con la batteria al litio non abbiamo questi problemi. Se infatti ha una batteria da 100A, colleghiamo un carico da 100A, questo assorbimento dura all'incirca un'ora senza perdita di performance. Quindi con una batteria al piombo non solo non possiamo rinfrescarci per almeno un'ora. Ho detto prima, ne faremo quasi mezz'ora ma anche meno. Ma ne inficia anche la durata della vita della batteria stessa, appunto perché la batteria risente di queste correnti molto molto elevate. Il problema invece non sussiste affatto con la batteria al litio che invece riesce a garantire la sua vita nominale nonostante questa enorme richiesta di corrente. Altra caratteristica molto interessante è la velocità di carica, ovvero la caratteristica che ha la batteria Trilion di supportare delle forti correnti di carica senza degradarsi. Quindi che conseguenza porta? Quella di poter ricaricare la batteria in maniera molto molto più veloce rispetto a una batteria al piombo. Velocità di carica che viene inoltre garantita da una maggiore efficienza della batteria. Nel prossimo video vedremo come è possibile ricaricare in maniera così veloce la batteria e come il dispositivo Trilink interviene all'interno del nostro sistema Trilion. Ci vediamo presto, ciao! 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 Ciao!